l'hai detta la cazzata oggi abbiamo con noi nonna grazia che ci preparerà una ricetta della cultura pugliese nonna cosa ci prepari oggi? panzerotti pugliesi ingredienti per la ricetta allora un chilo di farina 100 grammi di burro un cucchiaio di zucchero un cucchiaio di sale e 20 grammi di lievito farla un po' lenta non lenta o morbida un po' morbida e farla riposare quando cresce dopo un'ora un'ora e mezzo si possono preparare i panzerotti lo zucchero 20 grammi girati lievito farlo sciogliere in acqua tiepida la droga la droga si proprio quella un po' di latte un po' di latte vedi ad occhio mangerai qualche panzerotto le rape mi piacciono le rape con l'acciuga con l'acciuga 23 anni no che cosa devi togliere Federica sono tana ma ti rendi con quanto dobbiamo friggere due quintali solo 300 grammi di pelle voglio togliere da là oh si oh si oh si l'ho sciolto con un po' di latte aggiungo ora c'è l'acqua calda il lievito che è stato sul gelato piano piano aggiungo si impasta così ora che succede niente non è che fate che io non per l'italia ma non per ah la devo lavorare un po' e la metterò a riposo per qualche oretta quanto va e la riposo per un'oretta poi li puoi già sistemare ok grazie prego two hours later questi come sono? era più possibile c'è il biotetico allora cosa ne pensi? che voto ti dai? nove eh ma adesso voto otto e quarantacinque dieci nove e mezzo pieno attenzione però nulla è ancora deciso perché manca il mio voto che potrebbe confermare o ribaltare la situazione nove e mezzo